Buonasera a tutti, questo video vuole essere per i cristiani, i cristiani che non seguono Gesù il Messia ma seguono un Dio pagano. Innanzitutto, quando si pensa all'Islam, si pensa sempre ai talebani oppure a quello che è successo in Iran, sappiamo bene la triste vicenda di Maas Amini, uccisa perché non indossava il velo. E' assurdo, e gli episodi che ne sono seguiti, ma in realtà l'Islam non è quello, il vero Islam è quello messianico, ovvero seguire Gesù il Messia. Perché se è vero che Maometto è stato l'ultimo profeta, in realtà non esiste profeta più grande, angelo in cielo, di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è definito nel Corano una parola da Dio proveniente, Sura 3, 45. Qua dice, una parola da lui proveniente, il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro uno dei più vicini a Dio. E nel Corano Gesù è anche l'unico definito senza peccato, puro nella Sura 19 al versetto 19, nell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Perché? Perché Gesù, in realtà, come dissero anche alcuni grandi mistici, era un angelo, un angelo che per volere di Dio, anzi il più grande degli angeli, paragonabile all'Arcangelo Gabriele. Se noi guardiamo Sura 2, 98, perché menziona i due grandi angeli, Gabriele e Michele? Proprio perché Gesù è l'Arcangelo Michele diventato uomo. Il Corano lo fa capire, in realtà i musulmani questo non l'hanno mai capito, ma se lo chiama Spirito da Dio proveniente, Spirito, è chiamato l'Arcangelo Gabriele, che nella Sura 19, versetto 17, nella Sura 97, versetto 4, è chiamato il nostro Spirito e lo Spirito. Spirito Ru, quindi in arabo Ru, Spirito, indica i grandi arcangeli, e nella Sura 2, al versetto 98, menziona Gabriele e Michele. Il Corano dice che quando Dio vuole una cosa, dice sì ed essa è. Dio, quindi, perché non avrebbe potuto fare sì che l'Arcangelo Michele diventasse uomo, messi e profeta su questa terra? E all'Arcangelo Michele ha promesso il regno su questa terra alla fine dei giorni, come fa capire Sura 19, versetti 60-63, che parla della terra che diviene simile all'Eden, un Eden restaurato. Nella Sunne è scritto che quando verrà Gesù, il Madi, infatti il profeta Maometto, disse non c'è altro Madi, altro Salvatore, altro Messia del tempo finale che Gesù di Nazareth, Gesù che ritornerà come splendente Arcangelo e giudicherà chi non crede in lui. Quindi, questo video è per i musulmani che continuano a dire che Gesù è soltanto un uomo e sbagliano, è per i cristiani che falsamente, peccando ancora di più, dicono che Dio. In realtà seguono un Dio pagano, seguono Mitra, perché l'imperatore Costantino adorava il sole invitto, Mitra, un Dio pagano, e lo stesso fanno i cristiani di oggi, in un sincretismo pagano, la Trinità, che è la stessa triede capitolina. Quindi, in poche parole, Gesù è l'Arcangelo Michele diventato uomo. Come risponde l'Arcangelo Gabriella, la Vergina Maria, quando chiede Ma come può avvenire ciò? Come posso concepire io, essendo vergine? L'Arcangelo Gabriella risponde Quando Dio dice una cosa, dice sì ed essa è. Quindi, Dio ha deciso che l'Arcangelo Michele diventasse uomo, profeta e messia su questa terra. Ed egli sta per tornare, perché ormai siamo alla fine dei giorni. Basta vedere ciò che sta accadendo in Francia, la guerra tra Russia e Ucraina. I segni dei tempi ci sono tutti, quindi manca poco. Secondo l'escatologia islamica, prima della fine dei tempi, ritornerà Gesù, un segno dell'ora, il sole sorgerà da ovest. Quel giorno, chi ha commesso peccati, chi continua a non credere nel Messia, sarà condannato. Quindi, convertitevi all'Islam messianico, seguite il Messia, perché egli è il più grande profeta mai vissuto sulla terra, è il primo angelo di Dio in Cielo e sta per tornare come Madi, Messia del tempo finale, Salvatore, Principe dei Credenti. Con questo è tutto, vi saluto.